La Summer School è stata un'esperienza professionale, formativa e umana bellissima, coinvolgente, direi travolgente, al di là di ogni mia aspettativa. È stata un big bang, un big bang di idee, di progetti che ancora continuano, di incontri con persone, di emozioni e ideali condivisi. È stata un'esperienza estremamente interessante e formativa, dove ho preso veramente molte cose su tantissimi temi. In più ho incontrato persone veramente speciali. È stata una fonte di energia, di bellezza, di conoscenza, che mi permetterà di continuare a perseguire Global Goals con il supporto di persone che ne sono innamorate quanto me. La Summer School è stata una figata pazzesca. È stata l'occasione per imparare, conoscere, conoscersi, contaminarci e alimentarci a vicenda per diventare veri ambasciatori dello sviluppo sostenibile. Quindi, grazie. La Summer School di Siena è stata un'esperienza formativa molto ben strutturata, un programma ricco di contenuti interessanti e relatori esperti. A Siena ho trovato un gruppo di persone competenti con cui confrontarmi in modo concreto sui temi della sostenibilità. School di Siena per me è stato un momento di apprendimento, di confronto e soprattutto di condivisione. Aver trovato persone che condividono un entusiasmo così alto per queste tematiche è stata sicuramente un'esperienza molto arricchente. School di Siena per me è stato un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza. School di Siena per me è stato un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza.